Ci sarà la benedizione della porta e appunto l'apertura. Questo comunque è un momento realmente suggestivo, bello, particolare. Il tuo amore è per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Qui al santuario di San Gerardo nella Basilica del Santo è stata aperta dopo la benedizione, la lode e il rendimento di grazie a Dio Padre. Una gran folla di devoti ha preso parte alla cerimonia di apertura della porta santa del santuario di San Gerardo Maiella, materdomini di Caposele. I fedeli sono arrivati da ogni parte della diocesi e non solo per partecipare al rito dell'Arcidescovo Pasquale Cascio. L'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia è il numero più alto di chiese giubilari in Campania. Infatti verranno aperte in totale otto porte sante. La porta della misericordia a Mater Domini ci apre sul mondo dei pellegrini e sulle chiese sorelle che in qualche modo vengono qui per trovare pace e riconciliazione. Poi c'è la porta della chiesa madre, della cattedrale per tutta la diocesi e per tutti quelli che vorranno vivere in questi luoghi l'esperienza della riconciliazione con Dio e con i fratelli. Le altre porte sante sono delle concattedrali di questa antica diocesi ricca di storia ma anche di fede. E vogliamo in qualche modo coinvolgere tutto il territorio con la speranza che il percorso di questo territorio sia fatto dai giovani. Perché alle giovani generazioni dobbiamo consegnare il Vangelo della misericordia. Una bella mezza giornata l'insegna chiaramente dell'ascolto della parola di Dio, di questo sentirsi in comunione con tutti i fedeli del mondo e di questa possibilità di poter custodire qui questa porta, la porta della misericordia. Siamo veramente tanto felici. Poi è un luogo così bello, non è così lontano dai vari centri, è raggiungibilissimo. Penso che, ed invito tutti a venire, a vivere con noi questo momento di misericordia. Ecco, perché per suonatore il pellegrinaggio è riconciliazione, purificazione e la porta suggella tutto questo, da proprio questo segno. È un segno di speranza, è un ritrovare la propria dignità di figli e questo credo che sia la cosa più bella. La misericordia è questo.